Ci sono temi che riguardano la dignità di una nazione che secondo me valgono un altro atteggiamento, quindi io che posso rivendicare un tempo nel quale lei ricorderà che c'era una maggioranza molto variegata al governo di questa nazione, penso che se siamo onesti ricorderemo che in un'occasione si era presentata da parte della maggioranza che allora sosteneva il Presidente Draghi una risoluzione che io definì nell'Aula della Camera il manuale Sciencelli della politica internazionale, nel senso che si tentava di trovare una sintesi molto complessa e alla fine il documento chiaramente portava con sé una posizione poco chiara. Noi presentammo dall'opposizione una risoluzione con una posizione chiara, tanto chiara che alcune forze della loro maggioranza si astennero per consentire probabilmente al Presidente Draghi di andare al Consiglio europeo con una posizione più chiara. Io l'ho sempre vista così e dunque penso che il problema da chiarire su quale vogliamo che sia la posizione italiana in tema di Ucraina ad oggi stia più nell'opposizione che nella maggioranza. Poi sugli Eurobond, sempre collega Sensi per difesa e non soltanto il Governo è d'accordo, l'Eisalu ha già espresso questa posizione il Ministro Tajani e quando nella mia relazione parlavo di soluzioni innovative mi riferivo esattamente, di strumenti innovativi mi riferivo esattamente a questo.